Fox, perché? Che cosa vuoi da me? Io sono prigioniero della morte e solo tu puoi liberarmi. Fox, stanne fuori. E cosa mi dici di Naomi? Si è dannata cercando di vendicarti. Naomi? Tu sei l'unico che è in grado di fermarla. No, non posso. Perché? Perché io ho ucciso i suoi genitori. Allora ero giovane e non sono riuscito a uccidere anche lei. Mi sentivo così male che decisi di portarla con me, crescendola come se fosse stata mia sorella, per soffocare il grido della mia coscienza. Ancora adesso, lei pensa a me come un fratello. Fox, agli altri possiamo anche essere sembrati un fratello e una sorella felici. Ma ogni volta che la guardavo, vedevo gli occhi dei suoi genitori che mi fissavano. Diggielo tu, per me. Dille che sono stato io a farlo. Eccomi qua! Abbiamo quasi finito il nostro tempo. Ecco, un ultimo regalo, da parte di Gola Profonda. Lo fermerò. Fox! Fox! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.